Buongiorno cari amici e amiche di Scambiavolmente, un saluto da Piazza San Francesco a Bologna, anche se la chiesa è di fronte a me, ma ho trovato un punto più tattico per salutarvi. Missione compiuta perché sono appena passato dalla libreria Trame da Nicoletta in Via Goito a Bologna, grande collaboratrice di sempre sugli eventi letterari che faccio nei vari punti sparsi del centro città, a prendere un bel po' di copie della Sposa del Vento di Scilla Bonfiglioli edito da Fazzi Editore che presenteremo insieme ovviamente sabato 15 alle 18.30 al Galleri 16 in Via Nazario Sarò 16 e ovviamente diretta live su YouTube. Sposa del Vento è un libro fantastico, un libro per me totale, un libro che introduce delle tematiche stupende, libro storico, libro magico, libro di passione amorosa incredibile, libro filosofico, libro esistenziale, libro di una descrizione incredibile, questa Vienna del Novecento dove tanti personaggi girano intorno, come Clint, come Freud, girano intorno a Oscar Kokoschka e a tutti i personaggi che lui incontrerà, specialmente il mondo femminile, molto bello, molto importante in questo libro, ovviamente su tutti questa mone con Alma Mahler, di una passione, di un'istitività incredibile, insomma il libro è ricco, ricco, ricco di dispunti, di riflessioni, la scrittura di Scilla ci agevola e ci fa un po' venire voglia di non finire mai, quindi io veramente ho rallentato la mia lettura per non prospettere, quindi ovviamente l'ho finita ma sto rileggendo il finale, che il finale mi è piaciuto tantissimo, ovviamente, zero spoiler, vi aspetto però il 15, i libri come vedete ci sono, Scilla Bonfiglioli, Fazzi Editore, Galleri 16, 18.30 Bologna, letture di Deborah Pametti, musica di Romano Romani, sarà un evento letterario e anche un po' teatrale, vi aspetto.